è stato un pomeriggio pazzesco intanto c'era tanta gente la scuola è bellissima quella polinotte beh sì la batteria batteria perché suonano la batteria in realtà era congegnato più come musica d'insieme essendoci tanti batteristi qualche chitarrista qualche bassista ne ho approfittato per fare una cosa sulla sezione ritmica che direi è una tipologia di masterclass che sarebbe da fare sempre ma anch'io come partecipante che c'è sempre da imparare per costruire un'alchimia basso batteria e gli altri strumenti tante persone tanti amici stasera ci ritroviamo alla taverna di mistero qui a pordenone facciamo una bella jam session jazz jazz che vuol dire condivisione prima di tutto perché una musica che nasce da una commistione razziale incredibile c'è tanto sangue nero tanto sangue africano ma tanto sangue anche italiano tant'è vero che il primo disco con la denominazione il marchio jazz è un disco di una band fatta da dei siciliani emigrati in america quindi nick la rock con la sua original dixiel and jazz band che tra l'altro jazz la parola jazz una volta era con le due s dopo di che siccome c'era un impresario quindi una band che una delle prime che aveva l'impresario vero era stufo di vedere cancellata la j lasciando ass che significa un'altra roba e allora sono rotti le scatole allora ho detto no beh basta allora la parola jazz la leviamo dalle scatole mettiamo due z così abbiamo risolto il problema ecco che è nata la parola jazz grazie 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 grazie